un compito molto difficile allora grazie per avermi invitato qui questa sera a Faedis io tra l'altro sono nato sono nato a Povolotto Povolotto? Povoletto, ragazzi avevo anche studiato e tra l'altro sono qui perché mi vogliono nella squadra di calcio ma faccio cagare quindi penso che non mi prenderanno vabbè vi siete scaldati con i ragazzi io pensavo di mettere un po' di musica per voi se volete ballare un po' con me scusate adesso mi sveglio perché oggi ero a Riccione l'altro ieri ero a Jesolo non so più dove qualcuno mi può ospitare a casa per dormire tutti maschi una volta i DJ erano pieni di figa adesso invece allora no mandi mandi allora balliamo vi stanno riprendendo un po' di musica Oh, è venerdì, ma qua sempre a sabato, incredibile, perché è pazzesca! Siamo noi liberali a tutti! Picca palle, eh! Siamo noi liberali a tutti! 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 Grazie 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 a tutti!